ecco sport mettiamo un po gli interni di questa macchina spaziale non sono abituato io a girare su queste macchine qua comunque questo mi hanno dato e vado a riprendere la bagnarola ecco 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 Grazie a tutti 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 C'è 6 marce Adesso sono in quinta Non sono abituato alla sesta Ecco Niente A me sembrano già spaziali queste macchine Rispetto a quello che sono abituato Qualcosa si vedrà con la GoPro Magari non tutto Andiamo a prendere la bagnarola Adesso andiamo in tangenziale Ha una buona buonissima ripresa si sente Un diesel Chiaro io sono abituato a bagnarola Quindi Per cui devo pagare un bel po' Di soldi Adesso ci mettiamo con calma Comunque la macchina è bella Godibile Piacevole Ormai le moderne sono così Ormai è antiquata Andiamo sempre belli prudenti Facciamo Comunque Lei ha una buonissima ripresa Facciamo Solpassino E quarta Arrivata Molto velocemente Ai 100 all'ora Quindi Veramente Con una facilità Estrema Qua naturalmente ci sono Le stangatine Quindi Abbiamo fatto solo un allunghetto Per far vedere Dove arrivava Ecco adesso Chiudiamo anche il collegamento Abbiamo impostato la GoPro Con un ProToon Che tenga il sole Conto del sole frontale E quindi Anche questa è la prova Che il videomaker fa Per vedere come vengono Questi Video Adesso faccio la curva E poi vi saluto Comunque è bella Io Quasi quasi non pago L'intervento E mi prendo Questa EcoSport Niente va Eccoci qua Andiamo piano E vi salutiamo Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti